Dagli appennini alle piramidi e il racconto di una straordinaria esperienza iniziata nel 2002 con la messa a valore della ricchezza paesaggistica, ambientale e culturale di una delle aree protette più grandi d'Europa, conclusasi nel 2007 con la realizzazione nel deserto egiziano del primo parco ambientale al mondo di balene fossili di 20 milioni di anni, dichiarato dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Quando abbiamo raggiunto un grado, un livello di capacità gestionale del parco riconosciuto ormai in quell'epoca tra il 2002 e il 2007 a livello nazionale, c'è stato un accordo fra il governo italiano e il governo egiziano perché un'area molto importante in Egitto, nel deserto egiziano, di balene fossili che hanno 20 milioni di anni, avevano bisogno appunto di realizzare un parco. E così noi siamo stati incaricati e nel giro di due anni abbiamo realizzato questo parco che è stato poi dichiarato patrimonio mondiale dell'umanità da parte dell'UNESCO, quindi per noi si tratta veramente di una cosa straordinaria. Io penso che questa sia una delle cose, insieme a tante altre cose, che abbiamo realizzato in quegli anni nel Parco Nazionale del Gran Sasso, quindi valorizzando il territorio, facendo e adottando modelli gestionali assolutamente innovativi che hanno portato a un incremento dei visitatori, di turismo, di lavoro, di imprese, eccetera. Ecco, tutto questo ho pensato, dieci anni dopo, di poterlo rievocare perché potrebbe anche essere utilizzato come modello di sviluppo non solo all'interno del parco, che mi auguro che ovviamente riprenda il suo cammino nel modo necessario e che possa essere anche utilizzato a livello regionale perché anche alcuni modelli, per esempio, di valorizzazione dei prodotti tipici ancora oggi danno lavoro a tante famiglie e stanno diventando dei must a livello nazionale.